L'oro della terra è quello dell'arte e della cultura. Con questo slogan la città di Pergola ha presentato questa mattina la ventitresima edizione della Fiera Nazionale del Tartufo Bianco, pregiato e dei prodotti tipici in programma nelle prime tre domeniche di ottobre. Dopo lo straordinario successo raggiunto nelle ultime edizioni con circa 80.000 presenze che hanno trasformato la città dei bronzi dorati in una delle principali capitali italiane del tartufo bianco, anche quest'anno la città si propone per una delle più importanti vetrine nazionali di valorizzazione dei propri prodotti. La Carmes, organizzata con il patrocinio del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della Regione Marche e dell'Enit, in collaborazione con la Camera di Commercio, Confcommercio e la CIA di Pesaro Urbino, si svilupperà in 500 metri quadrati di spazi dedicati per la vendita del tartufo, 4.000 invece di esposizioni di prodotti tipici, oltre ad aree dedicate a concerti, eventi e spettacoli. Il tutto per garantire al meglio i prodotti e rafforzare l'offerta di un tour tra gusti e profumi che ogni anno rappresenta il perfetto connubio tra arte, storia e sapori delle marche. Il tartufo noi riteniamo che sia un brand per la nostra regione, che la renda riconoscibile in campo europeo e nel mondo. Un ambasciatore ovviamente della Regione Marche che vede poi le sue eccellenze nelle fiere nazionali che sono concentrate nella provincia di Pesaro e Urbino. Quella per Golese è una carmes nazionale che apre grandi manifestazioni dedicate al tartufo bianco pregiato e la Regione deve credere in questo. Deve investire sul tartufo non con iniziative sporadiche ma con iniziative di concerto con le città del tartufo perché nasca il brand Marche. Pergola lavora per questo senza campanilismi ma unendo le marche. Ha conferma che la qualità dell'offerta enogastronomica, dei prodotti tipici, della ristorazione e delle manifestazioni dedicate all'enogastronomia hanno un valore fondamentale per la crescita dei flussi turistici. Quest'anno si celebrerà l'anno del cibo italiano, cibo di eccellenza inteso come straordinario strumento per raccogliere e promuovere una grande eredità culturale. Negli ultimi anni, grazie al lavoro fatto dall'amministrazione comunale, anche in accordo con la Confcommercio, la fiera del tartufo è diventata una fiera nazionale con decine di migliaia di visitatori che affolano la cittadina nelle tre domeniche e quindi la presenza del tartufo bianco e delle altre eccellenze enogastronomiche sposa bene l'eccellenza culturale che sono i bronzi dorati di Pergola.